Ciao a tutti i coricini, benvenuti in questo nuovissimo video! Coricini? Prima di continuare a guardare questo video, perché in questo video farò tantissimi scherzi a Erika e Vanessa, come avete visto nei scorsi video, cosa mi hanno fatto? Vi faccio vedere un po'. Ma prima di continuare a guardare questo video, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella e di lasciare tantissimi like! Fatelo, eh! Mi raccomando! Oggi facciamo scherzo alla mamma! Lei di solito mangia i cereali con latte e noi vogliamo cambiare cereali con corcantini, vedete? Qui ci sono i corcantini, sentiamo a vedere. Senti? Ragazzi, hanno preparato la collagione per la prima volta! Cosa? Te andate verso per i trunantini? Sì! Oggi voglio la mia vendetta! Andiamo a svegliare, ma non sarà un risveglio così tranquillo, con i bacini, come a fare la nuova sempre. Ma, ragazzi, vi voglio far vedere... Allora... Ora, 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 ora... Sarà un po' risveglio di lei! Allora, ora, 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 ora... Allora, ora, 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 ora... begini! Sì! Allora, ora, 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 ora ora, ora, ora ora... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi ho fatto uno scherzo, vi ho fatto uno scherzo, scherzo riuscito. Cosa c'è? Siete due gattini? Due coniglietti. Due coniglietti? Sì. Vedete Pana, andiamo a mangiare? Ragazze, lo dovete preparare? Oggi ho preparato tante, tante sorprese per voi. C'è proprio le sorprese di quelle belle. Adesso andiamo a lavare tutto, 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 che no? Sforchiamo tutta la casa, è tutta bianca come vedete e veramente non va tanto bene. Buon appetito! Io vado a sistemare un paio di cose, ok? Come mangiate? Ci vediamo fra poco. Ragazzi, come avete visto, ho preso l'antella, eccola qua, e vi voglio fare un altro scherzo. Praticamente mi metterò la nutella sulla seppia e dopo, cioè dopo, quando si alzeranno, io farò finta di vedere tipo la cacca, che loro sono sporche e dirò Mamma mi ha avuto la cacca d'orso L'altra boda abbiamo cercato No E adesso Metto la nutella Spero che minzca questo scherzo Così Non devono Scoprire niente Sono lì in cucina Stanno mangiando ancora un po' E niente Così Qualcuno ha chiamato Cosa c'è? Cosa c'è? Hai finito? Hai pulito lì tutto a posto? Sì? Andiamo a giocare un pochino Andiamo a guardare la tv Dai vieni qua Ti preparo una sorpresa Ti preparo una sorpresa Cosa state facendo? Avete finito? Volete guardare un pochino la tv? Sì Io solo voglio mangiare Ma ragazze sistemate per favore La tavola Dai Io sto ancora mangiando E tu signorina? Hai sistemato? Sei sicura? Sicurissima Sicurissima Mamma mia ragazze Era un po' e mi scoprivano Praticamente Vanessa È appena entrata E voleva vedere Quello che sto facendo Perché le ho detto Che le sto preparando una sorpresa Invece se vedevano Questa nutella qua Veniva subito a mangiarla Finisco di sporcare anche Quell'altra sedia Eccoci qua Così Abbastanza bene Adesso nascondo la nutella Qua ho sporcato un pochino Vediamo cosa stanno facendo Bimbe Cosa state facendo? State guardando la tv? Io ando Ho venuto Maria Maria Tutto a posto? Sei arrabbiata? Vuoi venire nella tua stanza? A vedere quello che ho preparato? Perché ho una sorpresa per voi Ok Dai Aiuto Andiamo a vedere quello che c'è Cosa c'è? Eccoci Avete visto? Guardate quello che c'è? Cosa c'è? Wow Ci sono i penerelli qua Wow Volete colorare? Fare un disegno? Sì Apriamo Attenzione Attenzione Stai attenta Stai attenta amore Stai attenta Mamma mia Ma quanti sono? Non ci posso prendere Matite Sono le matite Ci sono i penerelli E dopo questi come si chiamano? Matite No Questi che Tipo plastelina Ma è più dura Come si chiama? Oh Non lo so Non lo so Sì E dopo c'è acquarela È lì Vi do i fogli? Sì Volete fare un disegno? E dopo avete visto Questo gioco Guardate E dopo c'è la colla Sì C'è anche la colla Un foglio Un altro foglio per te Vanessa E vi do anche la colla L'aveva L'aveva La ragazzi Guardate cosa trovava Allora Ecco Niente Ho preso la colla Tieni Vanessa Anche per te Ma cosa? È già la colla Erika Preparato tutto? Ti sta molto bene Con i capelli così corti Tocca i tuoi capelli Senti quanto sono morbidi Nooo Erika Cos'hai fatto? Nooo Vabbè Vabbè Niente Dai Dai stai lì Stai lì tranquilla Stai lì tranquilla Non 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 devi muoversi Ti do io tutto Ok? Ecco Li raccolgo io Tutti Tu stai lì Non andare giù Per favore Cominciamo A fare un bel disegno Cosa volete fare? Vanessa Tu cosa vuoi fare Amore? Voglio prendere Con me Dai Prova Cosa c'è? Tu cosa vuoi fare? Seguendo Niente Cos'ha? Non ce l'ho niente Cosa? Perché è la sporca? Cosa? Il pomolone Perché è un pomolone qui? Del piccino Il pomolone Cos'è? Alzati per favore Alzati 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 Cosa c'è? Hai fatto la cacca d'ossa Erika Ma cos'è questa? Guarda Erika Ma cos'hai fatto? Girati per favore Erika che brutto Girati Girati un pochino Erika che brutto Ma hai fatto la cacca d'ossa Vanessa Non mi dire Attenzione Attenzione Ragazze Ma cosa avete fatto? Ragazze C'è Ma state scherzando Come? Ma Mi sa che Con cosa di dolce Che cos'è? Perché Hai messo La nutella Sulla sedia Un altro scherzo 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 Un altro scherzo Riuscito Ecco Poi contentissime Cioè Ma la nutella A chi non piace? Basta Non esageriamo Andiamo a fare la doccia Manessa Manessa andiamo Erika va a far vedere il tuo culetto Mamma mia Cioè Ho dovuto lavare le bambine Cambiarle Lavare le sedie Cioè Un casino Maga Di Maga Oggi Cos'è? Di piatti Guardiamo la macchina Quel gioco con Fabio Lo volete fare Allora Fra poco Fra poco Sarà una cosa Molto Molto Divertente Eh Molto Molto Divertente Erika e Vanessa Dovranno Riscoppiare Papino Tenendo in mano Un piatto Tipo Farò finta Che guidano Cioè Vedrete dopo Allora Vediamo Che cosa ha fatto Erika Ma guardate Che carino Ha fatto un corcino Ha fatto una cartina Vediamo Vanessa È una bambina È una bambina Guarda Guarda gli occhiali Mi sa che questa è Sofì Ma guarda È Sofì È Sofì È Sofì di Last Luna? Sì Sofì Ma guarda che bella Oh Coltore si è fatta male No Ti lo costo Eh ragazzi Ma io ho una fame Cioè Ho una fame Anche io Anche tu hai fame Allora Vado a preparargli qualcosa Di molto Molto Buono Ok Dopo vi chiamo Quando sarà tutto pronta Va bene? Sì Dai Ok Curicini Vi ho preparato un panino E qua c'è l'acqua Ma Io Voglio mettergli Un pochino Di sale Mi sto Mi sto Mi sto Mi sto Anche qua Mi sto Bimbe! Bimbe! Dai, venite a mangiare? Preparate un panino? Guardate un tv? Guardate guardare la tv? No dai, la tv si guarda più tardi signorina, guardate qui insieme. E dopo che se volete vi dover anche un po' di nutella, un pezzino di panino, va bene? Domani mattina si mangia la nutella. Mi dispiace che... Dopo fanno cin cin? Si, dopo fanno cin cin. Dai, fate cin cin! Lo sapete che questi sono i bicchieri nuovi? Vedete? Bicchieri nuovi, si. Cin cin! E Vanessa? Fa l'acqua, mi piace di qua, va meglio, lo sapete? Un altro scherzetto! Bimbe! Cioè, dicevo di no, dicevo di no, 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 no. Anch'io ho assaggiato prima, anch'io ho assaggiato prima per vedere quanto è salato, è veramente disgustoso, lo so. Adesso vi do l'acqua, quella vera. Loro sono andate nella stanza a giocare e io lì preparo l'ultimo scherzo. Qua c'è il colore e comincia il gioco del piatto! Che vedrete alla fine, che scherzo c'è questo! Allora, qua dovrò pitturare. Allora, prima, facciamo così per non sporcare. Sì! 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 Anche voi potete provare questo scherzo! Sì! Sì! E qua è tutto pronto! Adesso chiamiamo le bimbe! Ehi, Vanessa, cosa stai facendo? Bella! Che belle! Che belle scarpe! Cosa state combinando? Dov'è papino? Papi? Sei pronto per far vedere alle bimbe questo gioco? Ah si è vero? Si! Praticamente bisogna tenerlo guardare dentro ok e tenere qua così non girate non fate niente lo prendete e tenete dritto guardate qua allora lo tenete così come questo è come fosse sia un volante giusto eccoci qua ragazze tieni Erika tieni così quello il tuo volante ecco attenzione Vanessa tieni il volante bene tienilo bene bene siete pronte 3 2 1 fate partire la macchina mettiamo la prima marcia la seconda no ci passa qualcosa spostatevi spostatevi no di indietro dovete fare di imp Open Guardi come va i due metti come una grigia? ho fatto la grigia, tienilo che adHS no cosa fa ora andrei sotto andrei backs più veloce più veloce c'è una pepirella c'è una pepirella c'è una pepirella no cosa è successo no cosa è successo no cosa è successo cosa è successo ecco questo è un altro scherzo riuscito papi mamma mia direi con gli scherzi abbiamo finito siamo bruciate allora speriamo ragazzi che questo video vi sia piaciuto e scrivete giù nei commenti quale scherzo vi è piaciuto di più se avete provato il mio scherzo scrivetecelo giù il mio scherzo è più bello i miei sono veramente molto più belli maricini speriamo che questo video vi sia piaciuto e non mi dimenticate di iscriverti al nostro canale no e di qui e mi piace e mi piace e mi like fatelo ciao ciao adesso andiamo a lavare tutto i capelli i piedi il viso i vestiti tutto sono stati belli questi scherzi mi sono divertita ma dopo per pulire ragazzi non vi potete immaginare ciao 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 ciao